Nel suggestivo scenario che si estende dai Colli Asolani al Montello fino a Nervesa e all'alveo del fiume Piave, da secoli si coltiva la vite. Qui sono situati i vigneti della Cantina Montelliana e dei Colli Asolani, cooperativa fondata nel 1957. Su 600 ettari, in condizioni climatiche ideali, i viticoltori associati raccolgono l'uva che portano poi in Cantina. La produzione per ettaro è limitata, a conferma dell'orientamento alla produzione di vini di qualità. Lo stato di salute dell'uva viene monitorato da tecnici specializzati in tutte le fasi di lavorazione. In Cantina, le diverse uve vengono suddivise e raggruppate con criteri rigorosi in base a varietà, gradazione e zona di provenienza. La lavorazione dell'uva avviene in impianti in acciaio inox, per garantire la massima igiene nei trattamenti. Nella vinificazione in bianco, all'interno di presse sotto vuoto, si aspira delicatamente il mosto dal pigiato. L'illimpidimento e la fermentazione a temperature controllate danno origine al vino bianco, successivamente travasato in vasche inox, nell'attesa eventuale di essere rilavorato per la produzione di frizzanti e spumanti. Per i vini rossi, la produzione inizia con la pigiatura soffice dell'uva e prosegue con la fermentazione a temperatura controllata. Il pigiato è rimescolato e rimontato con il mosto. A fine fermentazione, viene separato dalla vinaccia. Il vino ottenuto riposa e matura in contenitori di acciaio inox o in barrique. Per garantire la massima qualità, la Cantina Montelliana e dei Colli Asolani sottopone le uve e i vini a esami in tutte le fasi produttive. A tal proposito, in un continuo aggiornamento tecnologico, sono stati recentemente installati nuovi e più moderni strumenti di analisi. La filtrazione sterile precede l'imbottigliamento automatizzato, che avviene in un impianto rinnovato e dotato dei più sofisticati sistemi di controllo della qualità. Bottiglie, cartoni, bag in box e kegs sono infine immagazzinati a temperatura controllata. Coniugare tradizioni e innovazione Ha permesso di ottenere nel 2002 la certificazione ISO 9001 e nel 2008 la certificazione IFS relativa alla sicurezza e sanità del metodo di produzione e del prodotto finale. La Cantina Montelliana e dei Colli Asolani produce vini DOCG, DOC e IGT, bianchi, tranquilli, frizzanti e spumanti, rossi, giovani e di leggero invecchiamento e grappe. Un territorio unico, la tecnologia più moderna, il sacrificio e la passione dei viticoltori garantiscono i prodotti di qualità che hanno consentito alla Cantina Montelliana e dei Colli Asolani di acquisire una posizione di prestigio nel mercato della produzione vitivinicola.